Musica 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 Cioè fa rendere come è nata un'idea Quattro amici, io Aldo e due Masbedo Siamo andati Facciamo una cosa, bello dai, con le proiezioni Con la musica in mezzo Figata, taglio! Musica 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 Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Mi sono andati all'Islanda, in B-Orch, e abbiamo lavorato con il produttore di B-Orch, poi sono andati alla Real World Fbrigata, con David Rhodes e Richard Evans. abbiamo registrato dei pezzi scritti con loro, poi Elisa ha voluto esserci, abbiamo scritto un pezzo insieme, Marlene Punza abbiamo scritto un pezzo insieme con Gianni Maroccolo, Borgar Magnasson ha fatto tutte le orchestrazioni con l'orchestra della radio di Stato di Zagabria, sono partiti a suonare proprio in silenzio, cioè non sapevo cosa dire io, fantastico. Allora cosa gli avevi dato le partiture? Il pezzo l'avevo scritto con le tastiere, avevo detto a Borgar un po' come volevo, le cose le avevo scritte io praticamente, lui le ha tradotte sulla partitura e ha direttore l'orchestra, poi al tempo giro, 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 i corni che io qua non li faccio mai, c'ho quattro intonati con un po' di chorus, mamma mia! Poi siamo tornati qua, abbiamo mixato in Toscana con How We Be, siamo stati un mese insieme, ne abbiamo mixato tutto in questo villone, una specie di comunità di gente persone, in Toscana ci sono capabili. E poi è strano perché è una roba nuova, cioè non è, sono quattro film con una performance che passa al centro, poi ci saranno delle incursioni tipo di un coro vero, in mezzo alle persone canta senza interrogazione, ci sono dei tamburi tipo tamburi del Bronx che sta in mezzo, quindi ti godi le immagini, noi che un po' suoniamo, un po' controlla, non tantissima, 800 persone, poi che sia fatta in una piazza enorme o che sia fatta in magazzini generali e con un piccolo solare che diventano il livello di mani, è un po' che si stava aiutata, non si tratta, si tratta, non si tratta, è un po' che chiede, non si tratta, non si tratta, quindi noi non io l'avessimo, ma l'avessimo è un po' che deve essere una montagna all'anno Grazie.